. Quisto propone, a Milano una ragazza rumena nega un rapporto sessuale a un marocchino e lui tenta di violentarla, il 31enne stato arrestato dai carabinieri dopo lintervento di un automobilista. . Un uomo di 31 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una donna di origine romeno di 37 anni che si era rifiutata di avere un rapporto sessuale a pagamento con lui. È accaduto alle 3. . 30 nella notte tra martedì e mercoledì in Biale Jenner, dove un passante ha visto il marocchino mentre bloccava la donna al muro con una mano al collo. La presenza dell'automobilista ha permesso alla romena di divincolarsi ma è stata bloccata di nuovo e colpita a calci e pugni. . Intanto sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato lo straniero. . Secondo la ricostruzione, aveva chiesto alla prostituta di avere un rapporto utilizzando una interprete ma quando la donna si è rifiutata è scattata la violenza. . . . . . . . . . Ciao